Intanto dei dazzi, poi arriviamo anche alla manovra, voglio parlare di molte cose. Però oggi è la giornata in cui viene bene parlare dei dazzi perché c'è a Roma, chi c'è Alessio? Mike Pompeo che arriverà qui tra poco. Certo, viene qui a Italia, ovviamente, è segretario di Stato americano e c'è tutto il tema dei dazzi su alcuni prodotti che noi esportiamo. Esempio Alessio? Olio, vino e pasta, oggi c'è questo pezzo di basso e quersè sul corriere, le esportazioni a rischio prosecco. In Italia il costo è 5-6 euro a bottiglia, oggi negli Stati Uniti il costo è di 10-15, con i dazzi, in caso di dazzi 20-30 euro. Grana Padano 10-15 euro al chilo, potrebbe arrivare con i dazzi a 60-70 negli Stati Uniti, la mozzarella 18 euro al chilo, 41 attuali 82. Ci sarebbero rincari anche sulla pasta che passerebbe da 2,75 negli Stati Uniti a 3,75. Bramila, dobbiamo preoccuparci? Intanto le chiedo? Grazie. Grazie. Grazie.